Problemi ancora per il numero 9. Allo stacco della macchina il più lesto è il numero 3 di Pei di Ulivi KG con a largo il numero 4 di Perlinghoff che gradatamente viene a chiedere strada ma è anticipato dall'uno di Pachibred. A largo di tutti è partito molto bene anche il numero 8 di Purefont intanto 14,6 lancio, nelle prime posizioni c'è anche il numero 2 di Progress Model a precedere il 13 di Poesia Suar. Intanto va a chiedere strada a Perlinghoff e passa dopo 350 metri di corsa. Non trova a sistemazione l'otto di Purefont in seconda posizione c'è Pei di Ulivi KG segue Pachibred, Progress Model, Poesia Suar c'è una marea di squalifiche. I cavalli sono sul completamento della terz'ultima curva con Marco Basile a dettar legge con il suo Perlinghoff, favorito della corsa. Dalla quarta posizione muove Progress Model che viene a largo, va a stazionare nelle prime posizioni. Allunga Perlinghoff, in seconda posizione c'è Pei di Ulivi KG il chilometro è passato in 17,6. Risale anche il 16 di Petra Laser che va a prendere la terza pariglia esterna. La seconda è quella di Pachibred. I cavalli sono sul finire della penultima curva problemi per Perlinghoff un po' richiesto da Marco Basile e messo benissimo il 16 di Petra Laser che viene via in terza ruota. Petra Laser attacca i primi a largo di tutti con un solo bolo si beve tutto il gruppo, si libera anche Pachibred e a largo di tutti c'è anche il 7 che poi galoppa Pompeo Griff e Petra Laser fa il vuoto, prende vantaggio importantissimo su Papoccio RG e Papoccio va a sistemarsi in schiena alla cavalla di Ciro De Cristoforo. In terza posizione c'è Paidei di Ulivi KG. I cavalli sono sul finire dell'ultima curva prende di nuovo vantaggio la Petra due di margine su Papoccio e quattro su Peidei di Ulivi KG. I cavalli entrano in retta d'arrivo con Petra Laser alla ricerca della prima vittoria in carriera e mi sa che questa volta la ottiene nelle mani di Ciro De Cristoforo mentre Papoccio, anche se un po' a distanza, conclude ben secondo. Per il terzo EVP con Peidei di Ulivi KG 2.36, 18 sul doppio chilometro bella vittoria di Petra Laser e Ciro De Cristoforo che con un solo spunto vengono a vincere in una maniera davvero perfetta. Per il secondo ottimo Papoccio RG con Vitale Ciotolo terzo, bene, Peidei di Ulivi KG con BP 16.17.3 è l'ordine arrivo della seconda corsa. Grazie. Grazie.